Ora ho capito perché non si può fare l'istanza per richiedere la bandiera blu a Tauromina e perché guardate, ma me l'avano segnalato in tanti altri luoghi, sono a Mazzeo, qui luogo meraviglioso ovviamente e guardate lì cosa c'è, quella è una foglia, faccio l'aperto, guardate lì, la faccio vedere a qui sto, guardate ecco qui, allora è ovvio, questo problema esiste da anni e mi stanno spiegando qual è l'imbarazzo anche perché qui ci sono dei ristoranti, ci sono delle attività produttive, ma dal comune gli dico che non ci sono mai soldi è come se questo consorzio cognario alla fine non si sa con questi soldi pagati dai cittadini cosa fa ecco, guardate che luogo meraviglioso, ora abbiamo capito perché non si può avere la bandiera blu di Tauromina ma le cose cambieranno, vedrete che cambieranno perché queste sono le cose che Tauromina non sopportano più